8 luglio 2014, siamo qui in piazza delle Camelie e giorni fa ho pubblicato un album con le nefandezze di questa piazza, di questo monumento, di questo degrado, l'ho pubblicato da tutte le parti su Youtube, Twitter, più ha più ne metta, Roma Totei ha ripreso nell'articolo che la sistemazione della piazza è là da venire e voglio dire ho parlato e ho detto anche in quella sede di questo stato degrado, guardate a distanza di giorni è tutto come prima, più di prima, sono monotono perché questa è la stessa frase che ho detto due giorni fa, ma questo è lo stato del monumento, dello stato di abbandono, della non pulizia, voglio dire, io a questo punto mi dispiace dirlo, ma io credo che al municipio Roma 5 ci siano degli, proprio una definizione, imbelli, imbelli perché non è possibile, non è possibile una cosa del genere, io veramente qui a nome, a parte della popolazione dell'Ampi che sta protestando, mia personale del vecchio centocellario e poi qui voglio dire un rispetto per Pula Italo, Pula Spartaco, Coros e Costantino, Luzzi Everardo, Ercoli Ardo, Borgioni Guido, Breghe Eugenio, Renzi Paolo, il papà divina, Perfetti Ennio, Morganti Menotti, Ricci Mario, Simeone Roberto, D'Andrea Mario, Ricci Domenico, Grazia Silvano, De Simone Litardo, Cacchioni Vincenzo, a Dario Michele, a Dario Antonio e a nome di questo io dico Municipio Roma 5, tu fai schifo.